Chi disse preferisco avere fortuna che talento per cercare l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna della vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro, per un attimo andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre, allora si vince, oppure no, allora si perde. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. A volte in un'altra parte la palla colpisce il nastro. In un'altra parte la palla colpisce il nastro. Ha detto che ti si è fatta per poter collegare a condividere i tuoi. Ebbene, almeno I amici di te, ripeto. Ho capito che io amico che ti sia fatto. Sono fatti da cantare per un attacco. che si anticipa, la spi fura, tutti i due ed isa e il suo sequel è in disipito, dentro su Vex, attraverso la cortina e la notte che non lo è asciuta, ne preppi sul solito shot e infatti sono andato a ripetere il totale, quattro minuti è sempre sempre e credo che nella prossima giornata tutto diventato più oscuro e anche in più un po' più grande ma sicuramente i 20 maggiori e se ci vediamo oggi è vero va bene è così facile questa bellissima atmosfera e 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